Eppure con gli esercizi ginici, lavorare, stai attenti alla sigaretta e alcolico, andate in palestra tre volte a settimana, 3 volte a settimana, 3 volte a settimana, non cittadini, non cittadini, non cittadini, non cittadini, perché non è buono per voi, trust me, workout, 3 volte a settimana, è molto bene, stai fit, so you stay in shape, take care of yourself, se chiamate dall'Italia, se mi vedete dall'Italia, saluti a tutti a Roma, Taranto, e a tutti gli italiani, Ciao qui da Hollywood, Rick Martino, Rick Martino, this is from Hollywood, California, this is Rick Martino, on 323-850-8580, ciao!